Vai! Dai loro! Ed ecco i preparamenti per fare la scala. Non so cos'è. Prepariamo questa scala. Sì, sì. Eh, ecco qual è la scala. Prepariamo, guardate la scala. A mio via! A mio via! Pronti? Via! Ci vado! Ci vado! Non premette lei che è meno quando si è alzato, ha pesciato il piede, la mano divano. No! No! Commentate e soprattutto votate! Oh no! Coloca usata! Grazie a tutti.